guarda mondo che non combatte stai vedendo mondo che non combatte hai visto e ci prova qui voleva la kill ovviamente no e non sa giocare e vabbè non fa niente non risolvo io sto cercando di accompagnarlo ovviamente vedo anche la stronza attacco guarda guarda mondo non fa un colpo in passiva non lancia un coltello niente guarda guarda si sta allontanando guarda guarda e poi corre qua tu capisci già quanto è fallito